ci darà necessariamente l'unificazione dal piano concettuale umano al superumano attraverso pietro ubaldi allora la soluzione del problema vi è progrediamo superiamo la zona delle prime disordinate approssimazioni dell'intuizione e noi ritroveremo spontaneamente automaticamente l'unità del vero l'evoluzione è solo l'evoluzione può darci e ci darà necessariamente l'unificazione per evoluzione solo si può passare dall'ignoranza alla conoscenza dalla separatività all'unità l'involuzione è tenebra che divide l'evoluzione è luce che unifica nell'involuzione la verità resta muta soffocata nel mezzo denso che non permette trasparenze l'evoluzione coordina riorganizza armonizza e conciori assorbe i dissensi e rende più evidente la realtà del vero grazie a tutti